ciao stream pellari allora sono un po emozionato perché questo è un video che ci tengo tantissimo a farlo e in questo video non suono io si tratta del mio tributo verso una classe di studenti che seguo che è la classe del guitar snapper club molto velocemente funziona in questo modo ogni mese lavoriamo su delle cose io faccio due lezioni live ogni mese è un gruppo abbastanza ristretto quindi è molto diciamo a tu per tu loro postano dei video mi fanno vedere gli esercizi io li correggo gli do dei consigli per migliorare eccetera eccetera e riescono a ottenere dei risultati veramente straordinari ma soprattutto grazie a questo scambio a tu per tu costante si impegnano veramente tanto e io ovviamente cerco di spronare il più possibile ma loro sono veramente bravissimi ogni mese praticamente loro riescono a ottenere un risultato incredibile su quell'aspetto su cui stiamo lavorando quel mese e poi si passa al mese successivo avanti così e dopo un anno veramente vedi una trasformazione enorme di questi chitarristi comunque in caso siate interessati adesso stiamo reclutando nuovi adepti per il guitar snapper club quindi se volete vi lascio un link dove potete compilare un modulo perché non facciamo entrare tutti voi compilate un modulo per fare la richiesta dopo di che vi sentite privatamente con lo staff di chitarra facile che vi seleziona e ovviamente quale momento migliore se non la fine dell'anno dove poi cominceremo a gennaio a fare un nuovo anno bellissimo che si concluderà magari il prossimo anno con un altro saggio questo è il brano che hanno studiato loro a novembre e si trattava di string skipping quindi vedrete salti di corde incredibili dalla quinta alla prima corda purtroppo non ci sono tutti i componenti del guitar snapper club per diversi motivi tra l'altro una delle cose più belle è vedere come loro interagiscono tra di loro come si danno una mano si si danno consigli diventano amici veramente tra di loro comunque perché pirati cecchini ovviamente guitar snapper club vuol dire guitar snaiper snaiper vuol dire cecchini c'ha tutto un motivo questa cosa qua per chi aveva visto la presentazione del guitar snapper club lo sa invece pirati perché questa è una canzone un po piratesca diciamo mi sono un po ispirato a quel quelle sensazioni lì per scriverla bene quindi io sono super emozionato vi prego di fare i complimenti a questi studenti che si sono impegnati veramente tanto in tutto il 2021 e sono arrivati a trasformarsi veramente cioè se io vedo quelli che erano loro l'anno scorso o quando è iniziato il club come sono adesso è bellissimo vedere la trasformazione completa che hanno avuto incredibile quindi vi lascio all'ascolto fatemi sapere se vi piace la canzone se volete mi raccomando fare la richiesta per il guitar snapper club in descrizione comunque da qualche parte mi metto il link quindi voi compilate il modulo senza impegno poi vi contatterà lo staff e poi andrete avanti a a vedere se fa per voi bene buon ascolto ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.